Ultime notizie, oggi un uomo armato si è introdotto in un edificio nel centro di Bakersfield e ha ucciso con un colpo d'arma da fuoco un impiegato che lavorava presso gli uffici del centro Cal Telemarketing. Il sospetto è... Cagli, sta fermo! ... ed è stato descritto come un uomo tra i 30 e i 40 anni, alto circa un metro e 90, capelli molto corti. La polizia non ha reso noto il nome della vittima. L'uomo è armato ed è estremamente... ... ti richiamo più tardi. Bene, bene. Non è stato un bel comportamento. Carina la macchina di la verità. Quando mi paghi? Come hai fatto a far uscire di prigione tutti quei soldi? La cosa non ti riguarda. Fuori gli altri nomi. Il prezzo è aumentato. Ti ho messo dieci anni per rintracciare tutte quelle persone. Questo costa a casa mia. E adesso ho deciso di rinegoziare. Va bene. È quello che volevo sentire. Ehi, Ken! Il prezzo è sempre lo stesso. Kenny? Kenny? Ti presento, il mio amico Samoano. Canzione di Ultimate Fighting Aguam. Non sai con quante violenza se le danno laggiù per aggiudicarsi il titolo. Che fe? So cosa vuol dire. Io lo so chi sei. Che cavolo è? Preferisco non rimischiarmi. No, smettila di dire stronzate. Io ti pago per difendere i miei interessi. Lui è un fantasma. Io non combatto con un fantasma. Torna indietro, brutto bastardo! Non combatto con i fantasmi! Benvenuto pelata, torna qui! Questi te li devo rimborsare. Tieni.